Sono giorni difficili per il Covid Hospital di Scafati e la struttura sanitaria deve fare i conti con un notevole accesso di pazienti al pronto soccorso, molti dei quali giovanissimi. Saturo il reparto di degenza ordinaria. Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati diversi pazienti positivi che vengono immediatamente trasferiti o curati a domicilio. Coloro che invece mostrano sintomi o sono state a stretto contatto con casi positivi, ricevono le prime cure nell'area container. In particolare 16 sono i pazienti ospitati nel reparto di malattie infettive, 16 pneumologia, 4 ricoverate in rianimazione ed attualmente 3 al pronto soccorso. Diverse persone tra quelle giunte in ospedale sono Novac, si hanno scelto di non effettuare il vaccino. Ospedale saturo quindi, ma il sistema sanitario regge ancora a fare la differenza in questi casi è l'organizzazione della rete ospedaliera, come spiega il direttore del DEA dell'Agro, Maurizio D'Ambrosio. Abbiamo fatto una scelta di differenziazione a seconda delle attività che dobbiamo fornire alla nostra utenza. Su Nocera facciamo tutta l'attività di urgenza e emergenza associata un'attività multispecialistica. Su Pagani facciamo un ospedale indirizzato come polo onquematologico. Su Scafati, prima del periodo Covid, si faceva un'attività prettamente di tipo pneumologico. E questo è stato uno dei motivi per cui la Regione Campania ha scelto Scafati perché ovviamente questo tipo di virus attacca prevalentemente e prioritariamente l'apparato respiratorio, i polmoni. E quindi abbiamo riconvertito la struttura e abbiamo realizzato oltre 70 posti di degenza Covid a diversa intensità di cure. Abbiamo sia una degenza bassa e media assistenza, abbiamo la pneumologia subintensiva, abbiamo la terapia intensiva. Attualmente abbiamo 40 posti attivi rispetto a quello che era il piano programmatorio regionale dell'anno scorso dove c'erano delle tabelle che individuavano i periodi da affrontare nell'ambito di una programmazione a secondo della curva epidemica. Così noi cerchiamo di adattare e cercare di organizzare appunto questo tipo di modello organizzativo. Questo non esclude che ovviamente pazienti affetti da contagio, sospetti o conclamati vengono presso la struttura di Nocera e da un punto di vista organizzativo, assistenziale e di percorsi questo ci crea grosse difficoltà. Però ci siamo attrezzati, i pazienti quando vengono da noi e questo lo facciamo proprio per i pazienti pediatrici, vengono scrinati, stabilizzati con tamponi rapidi antigenici e poi con tamponi molecolari poligenici prima di accedere alla struttura stessa, al reparto di appartenenza. Questo lo facciamo sia per i bambini e sia per gli adulti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.